Io penso che ora come ora sia importante dare in mano ai giovani, perché comunque le idee sono in mano ai giovani al mondo d'oggi, quindi è importante incentivarli con progetti. Gli studenti dell'Istituto Orafo Margaritone di Arezzo hanno già i compiti per le vacanze natalizie, progettare il premio per il Gran Galà dello Sport di Castiglione Fiorentino e poi realizzarlo assieme all'Orafo Gabriele Veneri, che aprirà le porte della sua azienda ai ragazzi nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo messo a disposizione le nostre competenze per realizzare e per formare questi ragazzi alla realizzazione di questo premio da A alla Z. Un'idea nata negli uffici della Presidenza Estra. Abbiamo inventato questo progetto di alternanza scuola-lavoro che gratificherà, impegnerà i giovani studenti e darà un segnale complessivo nel nome dello sport, dell'economia e della buona scuola. Ecco, la formazione e quindi anche l'alternanza scuola-lavoro diventa quasi una materia di studio in questo caso. È un metodo di lavoro più che una materia di studio che taglia trasversalmente tutte le discipline, mette insieme il territorio, mettendo insieme le imprese, mettendo insieme la scuola, mettendo insieme gli enti locali, mettendo insieme la vita del territorio per i giovani che sono il nostro futuro e che lo costituiscono. Sarà poi Castiglione Fiorentino il teatro finale, tra virgolette, a tutti gli effetti di questo progetto dove ci sarà poi l'epilogo anche con la premiazione vera e propria. Sì, esattamente al Teatro Spina di Castiglione Fiorentino, si prevede il 20 marzo. Questo evento in cui Estra non contribuisce ma costruisce, l'Istituto Tecnico realizza, gli orafi danno la loro esperienza e il loro know-how e tutto per celebrare dei campioni dello sport, quelli che non ci sono più, a cui è intitolata ogni singolo premio e quelli che lo riceveranno che, vista la prima edizione, sono sempre ospiti e premi di primo livello.